Devo soltamente parlare con lei No, guarda, io la conosco appena Non ho il suo numero, mi dispiace Ci vado a razzata qua, caro Un mio amico inviano Mamma, tu dove sei? Mmm, bravo l'edish Ma da quanto tempo insegna in questa scuola, professore? Da un bel po' di tempo Ma ti fanno male i piedi? Devi che ti pompi come un disperato con 200 kg di pesi e non riesci ad alzarti a prendere la maglietta? Guarda, di te non so come un tacchino Ieri pomeriggio, dopo scuola, mi sembrata di averla vista A un certo punto questo l'ha spinta dentro Che tipi questi due? Ma girano sempre in coppia Non li ho mai visti separati Sono inossidabili Guarda, io sono qui da più di 20 anni e sono sempre gli stessi Per rimanere immortali, ogni anno bevevano il sangue freddo di salamandra Mescolato con quello di una vittima Inizia riti, eh? Sicuramente una leggenda Eh, chi può dirlo? Ma tu, cosa stai cercando veramente? Ma perché? Lei sa qualcosa? La mia riti, è la mia riti La mia riti, è la mia riti Grazie a tutti.